buongiorno buongiorno dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi di cs vera e professionale con la v maiuscola oggi rispondo ad un signore di los angeles il quale mi scrive dicendo dottore ma io da circa quattro mesi ho paura di ho paura di guidare ho paura di guidare ho paura che qualcuno mi tolga anche la patente ho paura di perdere la mia libertà e io gli ho risposto e mi chiede la causa cosa può fare eccetera 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 io gli ho risposto che queste paure che sento da più parti da più angolature nascono dalla a causa della tv paura della tv dei tg paura della tv covid io la chiamo anche oppure dei tg covid stanno bombardando tutto il mondo soprattutto in occidente di questa paura che porta le persone a pensare di tutto di più c'è gente che ha paura di guidare come c'è gente che non esce più di casa c'è gente che ordina ai propri genitori di non ricevere più nessuno a casa c'è gente che ne fa di tutti i colori però non si giustifica ciò con la ragione si giustifica a livello irrazionale il subcosciente ha paura ha paura perché ipnotizzato dalla massa dalla tv paura e come questo esempio del tg paura e che iniettano insinuano nella tua mente nella mente di tutte le persone diciamo per la stragrande maggioranza queste fobie queste paure così funziona anche per il resto per la depressione per idolo per per le malattie aggiungo anche perché no perché succede che si influenza e quando una persona crede che prima o poi gli toccherà succede come diceva anche san francesco d'assisi nel 1100 dopo cristo attento a ciò che dici e attento a ciò che pensi perché può diventare la profezia della tua vita e io la modifico questa frase parafrasandola dicendo attento a ciò che ti dicono vedi tv poteri forti e a ciò che ti fanno o che ti fanno pensare perché possono fartela diventare la profezia della tua vita e questo vale nella felicità nella povertà nella ricchezza nelle malattie nelle paure fobie eccetera 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 non credere a nessuna parola del sottoscritto pensa come funzioniamo noi e pensa perché spendono miliardi da tutte le parti per comprarsi la famosa tv tv in senso lato tv intesa anche come cellulare tv da letto tv da bagno tv tascabile tv in auto dappertutto allora tu hai la facoltà di scegliere se indirizzare questa tv a fin di bene in senso lato tv oppure in senso male nel senso che potenziarti essere felice cambiare la tua mentalità per il bene tuo e del tuo caro cioè educare il tuo subcosciente il tuo pilota automatico il computer famoso di star trek a tuo vantaggio oppure a tuo svantaggio tutto dipende da te ma la prima fase è diventare consapevoli consapevoli porre l'attenzione che ciò che io ti sto dicendo è la pura e sacrosanta verità ora belle parole dottore mi dice la soluzione la soluzione l'ipnosi di cs vera professionale con la v maiuscola anche da solo senza girare cappelle palestra e mettere la famosa tuta anche con un solo audio mp3 dcs in questo caso dal titolo mai più paura di guidare oppure no ansia no panico ti eliminano queste paure instillate da qualche immagine da qualche parola da qualche soggetto in tv che può essere un film una una trasmissione un programma una notizia tutto di più che in base alla persona al proprio subcosciente al proprio pilota automatico diventano la propria realtà funzioniamo così ecco perché l'ipnosi di cs vera professionale è costituita solo da parole semplici pulite trasparenti comprensibilissimi senza nessunissimo effetto secondario collaterale però parole create ad arte ad hoc con quasi un secolo di un antico sapere che provengono da due grandi 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 grandissimi artisti dell'ipnosi vera professionale con la v maiuscola il professore dottor michelanghel garai la dottoressa rina brunini miei maestri miei mentori miei associati miei amici per tutta l'eternità e anche per le vite oltre l'eternità che hanno cambiato la mia vita nel 2008 hanno salvato mio padre da un ictus dove la medicina a tutti gli specialisti della medicina a cui portai mio padre spendendo una montagna di soldi mi dicevano che sarebbe rimasto a letto per tutti gli anni a venire come una larva come un vegetale ma io non arrendendomi sono andato oltre che l'ho salvato e mio padre si è alzato di nuovo grazie all'ipnosi vera professionale della dottoressa rina brunini e il professor dottor michelanghel garai con il bastone e ha vissuto dieci anni scherzando con gli amici cercando mia madre in tutti i sensi immaginabili e possibili a 80 anni eccetera 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 questa è la vita ragazzi questa è la storia e la mia mission non è quella di vendere audio mp3 dicesse ma diffondere il mio metodo dicesse a tutta la gente di buona volontà bene fammi tutte le domande del caso ti risponderò gratis compatibilmente ai miei tempi e miei impegni visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com la mia fanpage su facebook ipnosi autiprosi del dottor claudio saracino iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzioni dicesse del dottor claudio saracino e fai share condividi con amici e parenti perché può essere quel quid o quella molla che gli può cambiare la vita e seguimi anche sugli altri social instagram e twitter benessere ipnosi soluzioni dicesse del dottor claudio saracino devo lasciarti perché mi stanno chiamando ciao